ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video un'altra super puntatona dedicata a voi che state guardando le vostre collezioni di orologi come sapete funziona un po così cioè che voi fate un video in orizzontale con lo smartphone in orizzontale poi lo mandate come dicono le istruzioni in sovraimpressione e poi io li pubblico qua su questa rubrica e li guardiamo assieme li commentiamo assieme no io li commento qua voi li commentate sotto fatemi fare un appello vi ricordo che ho anche il canale instagram dove posto foto di orologi in anteprima quelli che poi recensirò in anteprima quelli che acquisto in anteprima insomma tutto in anteprima è tutta in anteprima quindi anche instagram può essere un sistema utile per vedere dove sta andando il canale detto questo vi mostro l'orologino del giorno che è questo bellissimo rolex explorer da 39 mm quadrante nero cassa oyster bracciale oyster tutto un oyster un orologio da everyday watch che nella misura da 39 mm ritengo sia quella più adatta a me poi c'è anche la versione la 36 ora quella nuova da 40 che non ho mai provato sarà che curioso di capire che differenza c'è tra il 40 e il 39 quanti linee però con 39 mi trovo benissimo adesso bando ai discorsi inutili e passiamo al primo videino vai ciao davide ciao da roma andrea grazie per lo spazio concesso concesso senza cesso con lo sciacquone qua abbiamo già vedo una bellissima tovaglia di quelle no mamma mia di quelle diciamo vabbè dimenticabili comunque però vedo anche degli orologi dimenticabili speriamo speriamo che non vada firmale speriamo ti saluto a te e tutti gli appassionati appassionati vado a mostrarti la mia diciamo piccola collezione ma vada iniziamo con un quarzon quasi oggi shock mood master carbonio e plastica indistruttibile a batteria ma veramente indistruttibile indistruttibile un altro quarzo particolare un krieger e casa che nasce a miami non ho molte informazioni nasce e poi muore così però dagli esemplari devo dire muore questo è un vostro coca cola ma devo dire referenza particolare più che referenza il dia al dial scusami è ricercato particolare a quanto pare mi piace con questo meno o meno sarà qualcuno di famoso non è uno sanno meno io non lo so chi è ma non può essere nomino sarà qualcuno discutibile stampato però è particolare abbiamo un emilton ventura limited edition commemorativo elvis presley comprato per il matrimonio usato poco parzialmente scheletrato bello bellino di forma particolare uno dei pochi emilton che apprezzo tanto qui abbiamo un bellino questo si uno speed master automatic acciaio e oro da 39 bello elegante che dice sempre la sua io non scusami ma l'acciaio e oro non deve avere anche il bracciale in acciaio e oro non ricordo bene non ricordo bene però amo molto il muo watch anche se è il suo fratello maggiore però questo mi piace ho comprato questo ma si è automatico qui abbiamo un rarissimo king explorer 2 mamma quanto pare originale anni 80 90 non ho capito bene ho fatto ricerche non si trova nulla a riguardo però è originale sarà originale tutto quello che vuoi ma proprio la rappresentazione del del concetto di parassità parassiti i parassiti ecco quello che non nella società in qualsiasi campo il parassita è da evitare e chi fa un orologio che copia spudoratamente uguale identico no lo fanno loro hanno avuto successo hanno avuto una bella idea facciamolo anche noi ma non prendiamo ispirazione facciamolo proprio uguale 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 è così ne vendiamo tanti tac al quarzon perché so qua al quarzon un rolex explorer 2 fatto malissimo si vede proprio quei cavoli di indici lì sembrano fatti con la matita ecco fatto come che questi sono orologi evitabili cioffecano cioffecano con i suoi indici scoloriti bello ma come per uso per non usare troppo il fratellino che è l'unico rolex che io veramente amo quindi ho comprato ma ora no che bisogno hai di avere quello di sopra e poi anche dirgli che è bellino cioè ma io quello di sopra lo prenderei lo metterei in una pressa idraulica e lo ridurrei a cubetto a cubetto e poi dopo nel metallo lo butti nel metallo per non inquinare il mondo perché non ha ragione di esistere un orologio così mi ripetono è la copia di quello di sotto hai quello di sotto ma non è nemmeno dire vorrei ma non posso oppure cioè non lo indosserei mai perché nel momento in cui devo indossare un orologio di queste fattezze scelgo l'originale non la copia quindi buttalo via buttalo via per passare poi a questo siga design che uso praticamente tutti i giorni non so se è una marca che conosci cioè sicuramente la conosci ma sì mi avevano anche contattato per mandarmi un orologio gratis proprio no chiaramente gli vedo di no che non lo voglio non mi interessa non lo recensisco un orologio che non mi piace no non mi piace non so chi sono non so cosa fanno non so perché lo fanno sono cinesi potrebbe essere qualsiasi cosa di un siga ci sarà non lo so non mi interessa capito proprio un orologio che non mi interessa un marchio che non mi interessa mi vogliono regalare l'orologio per fare una recensione e gli dico no non lo voglio hai capito come funziona nemmeno regalato quando si suol dire non lo vorrei nemmeno regalato eccolo qua il fatto è questo è cinese il design e cinese il movimento è particolare va un gran bene perde pochissimi secondi al giorno grande scheletrato bello particolare vabbè t-rex per l'allenamento va bene da questo invece è un pinco anni 80 di plan di movimento trasparente completamente o pochissime informazioni a riguardo me la regalo mia moglie per il compleanno molto bello come molto bello questo il suo dial originale qui abbiamo il mio zodiac acciaio e oro però anche questo che fa l'occhio al più famoso rolex è un bellissimo zodiac qui abbiamo i miei due bulova warzone a batteria però belli belli dai e sono veramente belli e degli ottimi orologi che tengono il tempo magnificamente grande soprattutto il parking meter è un orologio che non si vede tutti i giorni quindi lo tengo veramente in collezione parchimetro e per finire ti mostro il mio tisso ganso questo t-race limited edition del 2005 commemorativo della moto gp con i fondelli incisi al laser con tutte le piste della moto gp in quanto io sono appassionato bello bello e lo tengo in collezione solo per quello mai usato è veramente scatola ingombrante però bella niente questa è la mia collezione grazie del tempo e love love luci ed ombre questa collezione talmente di basso livello no con delle delle cosine veramente discutibili secondo me che poi a certo punto rolex explorer la sprizza fuori così cioè c'è un po di dislivello tra avere un orologio di quel tipo li e tanti altri di quell'altro non so se sia plausibile ma tant'è mi fido di te interessante invece il discorso del tisso con tutti i fondelli con i vari circuiti della moto gp ecco se ha un senso collezionistico mi sembra che ti so faceva anche un un orologio che veniva arrivava con il caschetto da pilota con il col casco non mi ricordo quale modello fosse era simpatico beh ripeto a livello collezionistico un senso come orologio non è che mi piace anche quel tisola però messo lì così in bacheca a fini collezionistici ha il suo perché però il problema è che quando uno fa qualcosa a fini collezionistici poi quella collezione deve avere anche altri sbocchi no non è che ne posso avere solo un ora se ti so farà ha fatto li ha fatti dedicati alla moto gp altri come questo qua con l'elmetto col casco devi prendere anche quello perché fini collezionistici vuol dire che poi devi andare su quel battere su quel su quel filone lì come io con il long in vintage batto su quel filone lì non è che ne posso prendere uno dire l'ho preso a fini collezionistici lo metto lì ma uno e cosa mi rappresenta uno deve avere tutta una serie di orologi che vanno a completare la serie collezionistica quindi dati da fare sbarazzati di quei ciofeconi che c'hai lì sparsi quella e vedi di migliorare un pochino dai ti aspetto a settembre settembre prossimo ciao a tutti gli amici del canale contatore del tempo noi siamo appassionati non solo della produzione di spiriti ma anche di orologi e in particolare io sono appassionato agli orologi della misura fran muller qui un po il solo orologio del giorno è un fantastico fran muller ma lo vedremo alla fine del video boh sei simpatico ti sei messo nel gioco prima persona no bravo simpatico la distilleria ganza la distilleria distilliamo distilliamo ora appassionato di frank muller qua la cosa mi viene interessante perché ho sempre snobbati sempre snobbati anche perché costano un sacco di soldi no e ultimamente come avrete visto magari quel video in gioielleria dove mi sono ho indossato quello bianco piccolino incominciano anche a intergarmi anche i frank muller e quindi non dico che ne comprerò uno da qui a breve per momento non è proprio nel mia però sono curioso di vedere cosa c'è vediamo gli orologi fanno parte tutte di quelle complicazioni ludiche che frank muller ha inventato dove già precursore dell'idea di un orologio non più solo strumento del tempo ma anche qualcosa di divertente e di stupefacente da portare al polso qui forse abbiamo la complicazione più famosa che è la crazy hour in questo caso crazy hour crazy color quindi una complicazione dove i numeri sono messi in ordine sparso nel quadrante e al passaggio della lancetta di secondi quella delle ore ci dà l'ora giusta saltando fra un numero e l'altro in modo quasi casuale sono tutti orologi con una base età quindi un movimento molto semplice e un modulo della complicazione in questo caso sì anche lui semplice ma si è interessante questa complicazione qua da far vedere soprattutto ai neofiti a coloro che guardano i video del mio canale e non sono a conoscenza dell'esistenza di questo tipo di orologio del crazy hour nel quale la lancetta salta da un'ora all'altra restituendoci sempre l'orario esatto e naturalmente i numeri sono sparsi quasi casualmente sul quadrante interessante geniale nello stesso tempo l'altro che andiamo a vedere qui cambia la cassa qui abbiamo la cassa long island fra le mie preferite abbiamo una combinazione di titanio con questo splendido quadrante lavorato a mano con un finissimo guilloche e la sfera che troviamo al centro in questa roulette schiacciando premendo quindi il bottone sulla corona va a indicarci dei numeri casualmente il vegas quindi riprende quello che è il concetto della roulette dei casino e che minchia serve molto bello perché anche qui complicazione fosse inutile forse sì forse no ma sicuramente unica vabbè a cosa può servire quando fai le scommesse allora mettiamo 10 euro lì sul tavolo che numero dice che viene e 7 8 schiacci ne viene una caso chi si avvicina di più prende 20 euro se mette in tasca ci vedo l'unica l'unica utilità è questa se non quella di far vedere che si possono fare cose particolari ma insomma non è che sia una cosa così particolare con un pulsante far andare una terza lancetta dove cavolo gli pare a lei comunque va bene l'ultimo di queste complicazioni ma non l'ultimo è il secret tower in questo caso abbiamo sempre una cassa long island questo caso abbinato con con l'acciaio ma abbiamo un orologio che non mostra l'ora l'ora viene svelata solamente quando si premerà il pulsante sulla corona che ci darà l'orario giusto l'altra corona sulla destra serve per andare a impostare l'ora dell'orologio è interessante anche questa cosa qua particolare se non fosse la scomodità di dover usare utilizzare due mani per guardare immaginati quando sei a guidare a guidare l'auto no vabbè ce l'hai ovunque l'orario però al colpo d'occhio a volte è così che fai il colpo d'occhio in modo da non distrarti sull'orario piccolino che nel display magari track fa così guardi l'orario con questo qua devi togliere fare così guardare o anche in altre situazioni con il cocktail in mano no che le sono scusi mi sa dire che le sono track e si rovesci il tuo cocktail addosso per vedere che le sono però ripeto sono sempre quelle complicazioni che servono a dimostrare che si può fare una data cosa no o come diceva l'amico qua all'inizio per divertimento l'ultimo che ho tenuto nella mia raccolta è cassa in questo caso transamerica è molto interessante perché è un gmt con svegliarino quindi è il perfetto orologio da viaggio vedete come cambiano le casse sono molto diverse fra di loro sempre bellissima lavorazione del quadrante ma la particolarità di avere un orologio che ti dà sia due fuso orari sia il fatto di avere comunque la possibilità di impostare l'ora e la sveglia sicuramente meccaniche molto semplici ma sono degli orologi unici quindi davide spero che ti sia piaciuta mia collezione se ti saluto qui dalla distilleria ciao a tutti al canale grande ciao 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 allora sì bellissima perché è speso che dei soldi per avere questi orologi qua e soprattutto vi dico che i frank muller si apprezzano quando li si vedono dal vivo perché visti così sembrano degli orologi qualsiasi quando vedi le finiture del quadrante dal vivo capisci comprendi che c'è tutta una serie di lavorazioni che per raggiungere quella quello scopo lì ora io ho un dubbio che vorrei un attimino togliermi perché l'ultimo orologio quello di gmt non ho capito una cosa quindi voglio vedere un secondo un secondo questo qua eccolo qua big bang praticamente c'ha il secondo fuso orario o nella lunetta nella finestra a lunetta ad ore 6 è quello che ho sempre cercato io che mi sono sempre domandato se se esistesse un gmt nel quale un secondo fuso orario mi viene mi viene restituito in maniera digitale cioè tramite i numeri i numeri in una finestra eccolo qua qua ce l'abbiamo perché i numeri che sono in quella finestra lì sono il secondo fuso orario sotto c'è il datario o interessante sta cosa qua avrei preferito belli più grandi perché per vederli un po più grande però è molto interessante bello orologio questo qua quasi quasi purtroppo lucido a vederlo così però ripeto non l'ho mai visto dal vivo e andrebbe visto dal vivo chiudo qua perché sennò si fa lunga grazie per il video per averci introdotto nelle complicazioni di frank muller che non fa mai male prossimo video ciao davide ciao massimo dalla provincia di ferrara ferrara mio figlio mattia che ti vuole salutare ciao mattia grazie volevo presentare un orologio che non ho mai visto nei video dei nostri amici del canale e secondo me un orologio molto interessante ed è questo uno super sub si degli anni 70 con la configurazione arancione ne ho visti molti grigio neri però sinceramente arancio non ne vedo come puoi notare è in condizioni molto molto buone per il periodo già il bracciale nei suoi graffi ovviamente però tutto sommato è veramente tenuto bene a una piccola botterellina qui ma è normale che lo sia dentro esalite e tutto coevo per cui mi faceva piacere fartelo vedere si conosco questo modello qua l'ho studicchiato qualche volta e ho scoperto anche una cosa che c'è il movado movado faceva un esemplare un modello identico a questo semplicemente con il nome movado sul quadrante e non si tratta di un omaggio di una coppia ma proprio di una una sorta di sinergia no lo stesso orologio declinato con due marchi differenti non so però il calibro che c'era quell'altro non mi ricordo è un po come anche nelle auto lo fanno la subaru brz e la toyota gt86 non è che una copia dell'altra sono la stessa macchina declinata con due con due marchi differenti è un bello orologio è fatto è fatto anche un bella chiappo perché la ghiera arancione come dici te la bag arancione è abbastanza rara più rara delle altre bell'orologio bravo la tua opinione su questo orologio che è secondo me è veramente molto molto bello interessante e adesso ti passo a mio figlio che ti voleva presentare il suo orologio ciao davide sono grande continuo così volevo presentare il mio orologio che è un citizen probaster marine top un quadrante giallo con la data e il giorno è il mio primo orologio automatico serio perché per la comunione ed ero molto piccolo e brevemente mi ero fatto regalare un quarto una batteria batteria un orologio della ferrari so che a te non è molto gradevole non ti piace molto e il cinturino è in gomma perché il bracciale non mi sta e con questo qui riesco dunque a sistemarlo meglio eh sì e mi è comunque grande come giusto che sia e però vado molto fiero del nuovo arrivato in collezione che bello benissimo a questo punto ti salutiamo e ti mando un altro video breve con il resto della nostra va bene a presto ciao 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 grande mattia avete visto come spigliato cioè qua ci capitano i ragazzini che mangiano la torta in testa ai genitori perché non è poco in questo caso perché anche l'amico si è espresso benissimo ma la maggior parte dei casi ci sono persone che insomma faticano a esprimersi mentre i giovani ragazzini pum tam tum brio poi questo orologio qua caro mattia hai fatto bene a prenderlo perché è uno di quelli che anch'io vorrei prendere per la prossima estate quindi non c'ho fretta da qui da qui alla prossima estate magari lo prenderò e però quando ho espresso questa intenzione qua qualcuno sotto i commenti sotto il video nei commenti ha scritto eh attenzione non lo prendere perché ha un lag to lag di 50 mm e che mai mi ha spaventato no non l'ho mai provato adesso salta fuori che un ragazzino che non non può neppure mettersi il bracciale perché è troppo lungo lo indossa allora se lo puoi indossare un ragazzino lo posso indossare anch'io che c'ho il pulso la 19 mi hai fatto mi hai aperto mi hai aperto una nuova strada mi hai fatto vedere la luce mattia quindi lo voglio provare lo prendo anch'io e che lo prendo col cinturino in gomma non perché il bracciale non mi interessi perché il bracciale è anche fatto bene da quanto mi dicono in questi modelli semplicemente perché per l'estate per il mare con il gomma lo trovo più adatto e poi se mi girano gli scatoloni ci metto un nato come si deve hai capito il bracciale quel caso lì non mi serve d'estate non mi serve su questo orologio bravo mattia dai aspetto il vostro video con tutto il resto ciao davide sono Mirko da Roma e voglio farti vedere la mia collezione partiamo subito con questi due Rolex Digest Digest e Date entrambi uno in oro bianco uno in oro giallo si aguer sono meravigliosi si ma si chiama Digest questo qui l'ho ereditato da mio padre il giorno del mio matrimonio bravo dopodichè passiamo a un altro orologio un Vetta so che te gli omage non piacciono un Vetta Submariner però io lo trovo molto 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 bello è molto molto bello è molto molto bello perché è bello si ricorda il Rolex ricorda Submariner però ha il suo perché no è molto molto fino è fino è fino passiamo a due Longin Longin un Admiral bianco bellissimo questo qua mi piace e un Lindenberg credo sia un Lindenberg ci piacciono tutti altri due Longin Longin uno degli anni 60 bellino a carica manuale e questo qua sempre automatico con questa forma così in particolare non ricordo il nome sono sincero evidenza dopodichè passiamo a un Omega sempre a carica manuale va via veloce così come il vento due allora due alla volta ne ho tre di Glissing intanto ti faccio vedere i primi due vai un Ironman anni 90 e un Lutwaffe Lutwaffe quando la Glissing faceva gli omage agli eserciti Lutwaffe il terzo Lutwaffe Glissing è questo qua come si chiama? Toasterman eh non lo sapevi dire due dai altri due orologi oh il Villervette è carino dai sono dei Villervette tu hai due quello di là si vede una minchia entrambi automatici questo è stato un regalo di Natale di mio padre ecco lì è bello il cronografo è bello sono molto belli molto belli molto belli classico Kaki King Kaki King visto e rivisto 40 mm un topino non lo diamo dai passiamo a questo orologio qua un irowatch un irowatch non so nulla di questo orologio provate a cercare però c'è anche un sito però non questo modello non lo fanno più peccato un batteria però è sempre un rado un rado a batteria finissimo è più un gioiello bellissimo secondo me anche se a batteria molto carino un Seiko a me risulta che questo Seiko sia un Seiko Belmatic svegliarino che acquistò mio padre ho anche il cinturino originale subito tornato dal militare mio padre era del 46 quindi non prima degli anni 70 io mi ricordo che l'avevo comprato negli anni 60 va bene ho visto il video quando hai fatto il video dal tuo amico Pasquale Dominici l'ho visto in video e poi l'ho visto dal vivo e me ne sono innamorato l'ho subito comprato particolare questo qua lo conosci il Seiko 5 è un sport particolare l'orologio del giorno è il ProMaster il mio Seiko perdonami il mio Citizen ProMaster bravo ne ho anche un altro di Citizen ProMaster sempre questo è a batteria si vede i miei due Eco Drive ho anche un terzo adesso te lo faccio vedere ma anche no un GMT e questo è tutto in titanio a cui ho appena cambiato il meccanismo perché si era esaurita questo è uno dei primi l'accumulator di questo modello cioè hai dovuto cambiare il tuo meccanismo o ti sei spiegato male ecco il terzo e facci vedere che è il terzo ecco Drive ecco Drive simpatico anche quello lì è scarico un batteria ma ci sono molto affezionato perché è stato un regalo di Natale di una mia carissima amica beh qua sono lo trovo molto molto bello molto molto bello batteria come dici tu però lo trovo molto carino molto molto bello simpatico ci sono molto affezionato questo è quanto e che dai meno male ti saluto e ti ringrazio grazie a te e come ci dice qui a Roma ti saluto e ti ringrazio forza a Roma e a Bassa Lazio grande ora detta così anch'io sono simpatizzante della Roma cioè che rimanga qua tra noi non me ne frega niente il calcio non lo guardo non so nemmeno come la classifica però se devo simpatizzare per una squadra quella è la Roma dai tempi nei quali c'era il buon Bruno Conti che faceva i giochettini sulla destra tra 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 e faceva i gol da quei tempi lì collezione un po' così diciamo un pochino che dà il senso dell'odore di naftalina ecco mi dà il senso dell'odore di naftalina detta così sembra offensiva ma in realtà è un pregio nel pregio nel senso che è ben conservata diciamo così niente anche tu ti farei tornare a settembre perché non ci sono spunti di conversazione ciao Davide ciao io mi chiamo Luigi e ti seguo dalla Sicilia mi segui dalla Sicilia da Messina precisamente e niente volevo comunque dirti che hai un canale davvero molto simpatico come dici tu comunque metti davvero dei bei contenuti io mi sono fatto una cultura grazie a te in questi ultimi anni sugli orologi mi ci sono appassionato bravo e ho cominciato anche ad acquistarne alcuni te li faccio vedere dall'inizio proprio il mio la mia diciamo come è nata la mia avventura e ti faccio vedere inizialmente questo qui è un è un un quarzo è un tisso prs200 questo quadrante che mi piace davvero molto questo orologio ha circa 20 anni perché me l'ha regalato mia nonna che adesso non c'è più è morta tantissima anni fa e me l'ha regalato per la comunione è un orologio che comunque devo dire che si difende nonostante il tempo mi piace davvero tanto è un modello secondo me molto bello di quegli anni nonostante al quarzo comunque lo metto volentieri ed ha comunque un grande valore affettivo quindi inutile che continui a spiegarti il motivo per cui appunto mi piace esatto insomma comunque lo trovo davvero molto bellino bellino poi il mio primo acquisto consapevole è stato questo questo Hamilton un toppino carto di scuba automatic questo è il primo orologio che mi sono voluto regalare che ho comprato con i miei soldini anche se io ancora non lavoro sono uno studente però con più di piccoli lavoretti mettendo soldi da parte mi sono fatto questa collezione ecco bravo l'esempio dello studente che si aggeggia per tirare su qualche soldino per soddisfare le proprie passioni finché si tratta di spenderli così significa che insomma tutto sommato stai bene che non hai problemi perché sennò i soldini li spenderesti altrove per dire fortunato te voglio dire questo è bravo questo è il primo acquisto consapevole un orologio molto carino promosso fa il suo come dicono in tanti in questo canale e ci sono davvero molte persone perché appunto il mio primo orologio che ho comprato con i miei soldini hai già detto poi il mio secondo acquisto è stato questo mamma mia che ho acquistato per un compleanno è un bulofo automatico niente di sconvolgente però mi piaceva molto avere questo orologio per il quadrante champagne nella cassa champagne color oro rosa questo cinturino in pelle di coccodrillo molto molto bellino me l'hanno regalato per un compleanno li ho utilizzati comunque io però è un orologio molto carino che metto poco ultimamente però lo vorrei comunque mettere a seconda delle serate degli eventi che ci sono potrebbe tornare utile questi colori poi abbiamo quest'altro qua che questo ho comprato sempre io è stato sempre un acquisto consapevole un citizen automatico in titanio molto leggero col cinturino in pelle e questo è un orologio che ho acquistato sempre io consapevolmente perché cercavo un dress watch da mettere appunto magari con un vestito comunque sono un pochino più elegante più elegante sì piccolino e ho trovato questo sinceramente costava un giusto prezzo e mi è piaciuto ha un quadrante che mi piace devo dire molto bello molto bello acquistato molto bello poi abbiamo questo qui che è uno dei miei preferiti della collezione ed è un seiko samurai un toppino automatico 200 metri ha questo quadrante blu che mi fa letteralmente impazzire veramente bellissimo cassa lavorata niente da dire fa il suo anche questo mi piace davvero tanto molto affezionato perché rientra proprio nello stile nei colori che mi sono sempre piaciuti da indossare è un bel colore poi abbiamo questi qui che sono freschi fraschi di quest'estate abbiamo il classicissimo citizen promaster full lume un classico come la cravatta molto squishy come direbbe qualcuno delle mie parti poi abbiamo questo che me l'ha regalato la mia ragazza per il mio ultimo compleanno ed è un g-shock il g200 ba mi parlo mi ordo la dicitura precisa qual è comunque senza dire molto carino lo volevo perché volevo un g-shock nella collezione lo volevo assolutamente giallo per abbinare con le mie jordan gialle davvero tamarro poi abbiamo quest'altro che sono regalato per il mio ultimo compleanno ed è il t-so prx automatico automatico questo quadrante verde forse non si vede tanto nel video perché c'è bisogno della giusta luce comunque è bello mi piace davvero tantissimo e questo è un elogio che ho adocchiato per tantissimi mesi per tantissimi mesi quasi un annetto e alla fine me lo sono regalato bravo lo trovo che è davvero bellissimo di una qualità a prezzo impareggiabile bracciale mi fa davvero impazzire lo trovo comodissimo impazzire poi abbiamo quest'ultimo acquisto è Seiko 5 military è un semplicissimo Seiko Seiko 5 è una di quelle versioni militari questo qua tipo che scimmiotta un po' il cacchi field dell'Hamilton però lo trovo che abbiamo una sua anima ma gli analogi di estrazione militare i field watch sono tutti fatti così in questo stile poi questo qua mi assomiglia per niente ai cacchi field cioè sfere completamente diverse numeri completamente diversi anche in rilievo qua sono sul cacchi field sono stampati è uno stile cioè la casa è diversa completamente non diciamo eresie quadrante blu ho voluto prendere questo particolare non quello classico nero con gli indici bianchi ma questo con il quadrante blu indici sabbia perché lo trovo molto molto più bello molto più originale carino carino e io ho aggiunto questo cinturino che secondo me gli sta davvero molto bene perfetto volevo un orologio militare nella mia collezione volevo prendere il cacchi field automatico da 38 però non mi piaceva il fatto che non avesse l'antiriflesso sul vetro sinceramente trovo che anche con l'aumento invece questo qua ti si vede praticamente ti si sta vedendo sul quadrante il riflesso dei prezzi di questi ultimi anni non abbia più tutta questa convenienza nell'acquisto oltretutto posseggo già un Hamilton come ti ho fatto vedere prima cioè questo qua e quindi ho deciso di cambiare acquistare comunque questo sego per avere un orologio militare e per essere anche un daily watch questo è infatti il mio daily watch lo metto sempre quando esco la mattina devo sbrigare telecomission devo fare altro e basta una battaglia semplicemente questo e poi l'ultimo orologio della collezione che ce l'ho tantissimi anni è un apple watch ma no onesto lo uso semplicemente per fare attività fisica quando vado in palestra non è un vero proprio orologio ma è un accessorio che aiuta nella vita di tutti i giorni eh va bene però l'ho messo qui semplicemente perché ho questo buco vuoto questo buco vuoto che vorrei riempire però non adesso ma comunque vorrei inserire all'interno della mia collezione adesso dopo aver fatto tutto questo viaggio aver comprato aver sperimentato eccetera eccetera sono pronto ad acquistare un orologio diciamo importante e mi piacerebbe prendere un Rolex Datejust o magari un Omega Seamaster soldi uno di questi diciamo orologi un po' più seri però aspetto comunque di cominciare a lavorare perché ovviamente me lo voglio comprare con i miei bravo voglio guadagnarmelo sudandolo e quindi niente penso che comprerò uno di quelli e lo inserirò qui così toglierò questo mini ciofeca sì ma anche i bracciali per il resto è tutto grazie mille per avermi pubblicato se me lo farai ti avevo una buona giornata buona giornata ciao linea allo studio praticamente sì però il salto da questi qua che Tisoprx Hamilton a un Omega o un Rolex un bel saltone per l'amor del cielo fai benissimo una volta che ti senti pronto che sei consapevole di tutte le varie opzioni che ci sono sul mercato vai colpisci mettiti a lavorare guadagni soldini risparmiali e spendili lì però nel mezzo c'è tanta altra roba per fare un saltino un pochino meno così grande però voglio dire contento te contenti tutti cioè in questo caso contenti tutti perché se ti prendi un Omega o un Dejust non ti si può dire niente vai a scegliere due orologi di livello vabbè bravo poi se di giovanità è già fatto anche troppo bellino invece secco 5 militari è proprio carino con quel nato lì in pelle ci sta bene come io l'ho messo sul Villervetta però quando l'hai messo di fianco io ho visto che passa sotto aumenta lo spessore dell'orologio il mio suggerimento è quello di farlo single pass cioè quel nato di pelle lì che hai lo fai passare solamente una volta lo spezzoncino corto lo ripieghi su se stesso e vai a chiudere io ritaglio proprio così non ce l'ho più hai capito se non vuoi rovinarlo però lo ripieghi su se stesso chiudi e metti il nato in maniera single pass che te lo fa te lo fa aderire maggiormente al polso è più bello da essere indossato prossimo video ciao davide sono Marco dalla provincia di Firenze Marco e ti faccio complimenti per il tuo canale che seguo circa un anno e ti mostro la mia piccola collezione di orologi faccio vedere iniziando da questo vintage che era appartenuto a mio nonno è un orologio Sylvana Swiss made ho scoperto facendo delle ricerche su internet che questi orologi venivano forniti all'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale per cui questo è un orologio che risale agli anni 40 45 del 900 è un orologio con cassa in oro carica manuale e il cinturino non è originale così come suppongo la corona io non lo so anni 40 45 sicuramente non è per l'esercito in oro non glielo davano all'esercito in oro no e anche il fine anni 40 cioè fine del 44 45 l'oro era un bene talmente prezioso che veniva anche quasi fuso ora io qua non so magari in Svizzera è un altro discorso qua si sarà degli anni 40 ma va bene fa strano il contesto storico della seconda guerra mondiale un periodo veramente buio un orologio d'oro è un orologio al quale sono molto legato e che porto spesso perché ha una certa eleganza inoltre si è creata questa patina sul quadrante che lo rende lo rende ancora più interessante un altro orologio vintage che ti voglio mostrare è questo Zenith che è appartenuto a mio padre bello questo è regalato dai miei nonni appunto a mio padre per il suo matrimonio la cassa è stata non è originale è in oro ma non è originale è un orologio a carica automatica con calibro 2562 pc è un orologio che risale come produzione tra il 1972 e il 1975 orologio automatico con possibilità di carica manuale cinturino non originale anche questo è un orologio molto elegante che cerco di portare il più spesso possibile revisionato da poco marcia perfettamente grande bello orologio ti faccio poi vedere un Seiko questo Seiko è un quarzo so che a te non piacciono particolarmente gli orologi a batteria ma so però questo te lo volevo mostrare lo stesso perché è un orologio al quale sono molto affezionato l'ho portato durante tutti gli anni di università bravo la caratteristica principale è il calendario perpetuo però ha il grosso difetto che quando si ferma la batteria in pratica per ripristinare il calendario perpetuo bisogna rimandarlo alla casa madre che lo riposta da capo ma pensate che però tutto sommato le forme di questo orologio mi piacciono molto a suo tempo mi piacque si tratta del 2002 anche se questo è un orologio che risale come produzione ai primi anni 90 veramente ci sto ripensando il fatto che finisce devi sostituire la batteria che è un'operazione normale ogni tot anno il calendario perpetuo va resettato ma va rimandato alla Seiko perché lo devono fare loro cioè ma piuttosto che fare una cosa del genere nel senso di progettare un orologio in questo modo qua piuttosto non lo progetto cioè che senso ha mamma mia e continuo a portarlo bravo questo è il primo orologio questo Hamilton è il primo orologio primo acquisto consapevole di un orologio automatico un Pioneer è un Kakinavi Pioneer Small Second un orologio diciamo di ispirazione militare marino molto bello ora non si vede molto bene dal video le lancette con riflesso blu si vede mi piace molto anche il sottoquadrante dei piccoli secondi che è leggermente in rilievo ed argentato il calibro è il letta 28952 buono e quadrante di 40 mm cassa di quadrante un bello orologio con fondello a vista fondello a vista il cinturino non è originale si era consumato notevolmente l'ho fatto rifare artigianalmente uguale identico all'originale vero questo è uno swatch te lo mostro così tanto non so che non sei molto interessato a questa tipologia di orologio però ogni tanto a me piace anche comprare qualche swatch in collezione ma certo tant'è tant'è questo è il secondo orologio automatico che ho comprato ed è un longjin longjin master collection con numeri romani quadrante nero e indici argentati il grosso pregio di questo orologio è lo spessore molto limitato e il bracciale che è stupendo cioè indossando questo orologio si ha proprio una bellissima sensazione al polso addirittura il difetto principale secondo me è la finestra data che interrompe l'armonia del quadrante e gli indici argentati che in determinate condizioni di luce non si vedono molto bene faccio vedere anche il fondello che è trasparente trasparente bravo bello bello orologio mi piace oristide 65 un toppino evito di commentare perché è un orologio che conosci benissimo ce l'hai anche te io ho questa versione con questo quadrante verde scuro molto bello molto molto bello ghiera nera e il rivestimento della lunetta in bronzo poi questo orient orient kamasu mako 3 che è un orologio che francamente mi ha sorpreso l'ho acquistato online non credevo possedesse questa qualità costruttiva invece mi sono ricreduto perché è davvero un bello orologio che indosso quando vado al mare ci ho messo questo cinturino in gomma perché a mio giudizio il bracciale lo appesantiva molto e è un bello orologio un 42 mm che però mi sta bene mi sta bene al polso e devo dire mi ha sorpreso molto e beh ma orient così come mi ha sorpreso un altro orient l'orient bambino che ero curioso di acquistare perché volevo capire quanto era dress watch questo orologio in realtà a mio giudizio questo è di 38 mm di diametro se fosse stato di un paio di millimetri in meno un 36 c'era il 36 prendevi il 36 ora credo che non lo facciano più perché l'hanno fatto per poco tempo ma c'era il 36 si sarebbe potuto definire dress watch così diciamo non lo è per poco non lo è però è comunque un orologio di valido che porto spesso figurati questo è un orologio che ho cercato molto questo Everard che ha la caratteristica di avere 8 giorni di riserva di carica e l'indicatore di riserva di carica oltre ai piccoli secondi oh gli 8 giorni di riserva di carica no perché bisogna poi ricordarsi scherzo va bene così è un orologio che a dispetto del quadrante bianco è molto ben leggibile ed estremamente elegante inoltre la luminescenza degli indici appena accennata al buio lo rende davvero interessante sì orologio veramente bello molto bello informazioni sul sito che devo dire è il difetto principale di questa casa cioè il sito è veramente fatto male vero vero poi ti faccio vedere questo laco volevo un orologio flieger ho acquistato un laco mi ha un po' deluso più che altro perché si sente uno sciaguattio del movimento quando quando si sposta l'orologio è parecchio pesante esteticamente non è ma guarda perché costa 400 euro 500 si sente che il miota che fa così è la caratteristica del rotore a volte lo fa non è male però è un orologio che mi ha leggermente deluso e che probabilmente rivenderò poi ti mostro l'ultimo acquisto che a mio giudizio è l'orologio più bello di cui sono in possesso ed è questo Tagoyer acqua racer 200 che non ha delle caratteristiche tecniche fantastiche ma ha questo quadrante lavorato blu in ricorsi orizzontali che è davvero spettacolare e alla luce del sole no commento adesso perché questo qua è uno dei miei orologi preferiti c'era anche il mio amico Piero e l'ho sempre detto questo qua questa è la la ghiera in acciaio così bella satinata il quadrante degradé con la lavorazione orizzontale la data ore 6 i 40 mm di diametro cassa lo stile acciaioso proprio di tutto l'orologio me lo fa rietrare tra i miei orologi preferiti veramente che non ho bisogno di orologi non ho bisogno di orologi però se ne avessi bisogno lo comprerei lo vorrei mi piace prende veramente tantissimo orologio veramente veramente bello guarda lì bene davide chiudo qua anche perché sono andato leggermente lungo il prossimo acquisto che vorrei fare è un cronografo però per adesso ho le idee confuse mi piacerebbe un cronografo entro i 3.000 euro entro i 3.000 euro di listino non troppo grosso non troppo grande di diametro però per adesso ho visto soltanto i vulcane gli altri orologi i cronografi mi sembrano tutti piuttosto massicci chiudo qui ti saluto se sai consigliarmi qualcosa per quanto riguarda un cronografo che non sia l'intramatica perché ce l'hanno veramente in tanti te ne sarò grato e di nuovo tanti cari saluti tanti cari saluti sinceramente non so proprio cosa consigliarti lo sai non mi vengono mica a mente così lì per lì qua su due piedi poi dopo uno ci ragiona un po' gli vengono mettere fuori altri altri perché poi lo spessore dei cronografi automatici o anche manuali non è che cambia tanto di questi di questi livelli qua di danaro ma anche oltre e se c'è sempre lo spessore c'è sempre non è che si va ora ti dici il vulcane 3.000 euro ma ci stiamo dentro non mi ricordo quanto costa un vulcane si con un po' di sconto magari ci stai dentro quello è solo un buon il monopusher prendi il vulcane monopusher quello lì è un bello orologio l'ho fatto vedere farò la recensione io a breve ce l'ho per le mani è un bello orologio incassa un calibro manuale sellite sv510 e fai tutto con un pulsante ping 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 eh quello lì anche la sua particolarità monopulsante no? c'è nero bello e c'è salmone bello assai anche quello ma puoi andare lì se no in casa ti so non mi ricordo che è quella un pochino più non mi ricordo se c'è qualcosa interessante al momento non mi viene in mente niente perché anche il prx cronografo è bello spesso è bello ingombrante sono un po' tutti ingombranti sti cronografi qua in effetti poi se ci fai caso anche io nella mia collezione non è che punto tanto i cronografi eh lo speedmaster ce l'ho l'intramatic ce l'ho poi più in là non vado non rischio non è difficile non è il primero magari un giorno vorrei quando lo faranno da 40 mm e senza i secondi il decimo di secondo che va troppo veloce non mi garba un giorno se lo faranno come mi piace a me magari posso pensare a prenderle il primero però come i cronografi non è che ci punto tanto si vede no lascio un po' un po' indietro preferisco il suo tempo boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video e il presentatore se così non fosse ce ne faremo una ragione assieme chiederemo la sostituzione con il presentatore attuale in panchina ed entra il sostituto fate voi votate se sostituire il presentatore vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao a tutti Grazie a tutti.